Allora, 100 partite festeggiate al meglio, siete stati bravi a resistere e poi a colpire. Qual è stato il momento decisivo secondo te? Non prendere gol nei primi 20 minuti o sfruttare la prima occasione che vi è capitata? Abbiamo giocato contro una grande squadra che è la squadra molto forte, ha fatto una grande partita, siamo stati bravi a non prendere gol nei primi 25 minuti, ci ha anche girato un po' bene e si è riusciti a sbloccarla in maniera un po' fortunosa, però penso che la squadra abbia fatto un'ottima partita perché comunque venire qua e portare a casa tre punti non è per niente facile e siamo molto contenti. Vi aspettavate di essere a questo punto un mese fa? Assolutamente no, però penso che il lavoro quotidiano che stiamo facendo con il mister ci sta ripagando alla grande, però è ancora molto lunga, il campionato è ancora molto lungo quindi bisogna continuare a lavorare così e non pensare che sia finita perché assolutamente non lo è. Secondo te, in che cosa può fare meglio questa squadra? Sicuramente nella gestione della palla oggi abbiamo fatto più fatica delle altre volte perché comunque di fronte abbiamo una squadra molto aggressiva che è saper venirci a prendere bene e il mister sicuramente non sarà contento di questo, quindi saper gestire magari la palla in questi momenti contro squadre così forti è fondamentale per riuscire a fare altri risultati, però penso che siamo sulla strada giusta, bisogna continuare a lavorare e niente. Ultima domanda, che effetto ti fa essere un centenario? Cento presenze con una squadra sono tante, mi fa un gran piacere perché comunque sono stati tre anni molto interessanti intensi e spero di continuare a togliermi delle soddisfazioni con il molese. Ok, grazie in bocca al luogo. Grazie. Grazie.